ciao benvenuti nel mondo pinipon ciao siete capaci di montare un pinipon a occhi chiusi ma certo è facilissimo io potrei anche dormendo ah bene allora io ho preparato un gioco a occhi chiusi ma se vi sembra così facile possiamo complicarlo un po complicala quanto ti pare allora una di voi due dovrà essere bendata con una fascia e l'altra le darà le indicazioni per farle montare il pinipon che io avrò scelto potevi stare un po zitta amara accettate la sfida ma certo chi comincia con gli occhi chiusi ce lo giochiamo a sasso carta forbici e pinipon va bene però ricordami com'era allora sasso vince forbici le forbici tagliano la carta la carta vince sul sasso e pinipon vince su tutto va bene dai allora sasso carta forbici pinipon tocca a me pronte partenza mix is max ecco fatto mara e questa è la pinipon che lei dovrà montare e adesso puoi cominciare mara va bene con le teste a destra più a destra più in là ecco qui no 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 a destra qui va bene adesso in basso più in basso ferma ferma indietro no no più più indietro sì dai sì sì dai ecco fatto ecco così così e così adesso la maglietta ora qui via avanti avanti e più no no indietro via indietro ah no così ecco perfetto perfetto l'ho preso ci sono adesso qui a destra a sinistra più avanti qui ma più più ecco vediamo sì bene bene e adesso mancano i pantaloni aspetta sono qui ce la posso fare via avanti di più di più di più indietro a sinistra ecco prendili no no li hai lasciati questo bene ce l'ho dai bene adesso cerca il mondo allora la testa dov'è la testa la testa ah eccola eccola ah no questi sono i capelli la testa è qui ecco ce l'ho perfetto perfetto ci sono i capelli mettiamo la testa adesso la maglietta qui ora i pantaloni ci sono quasi ecco fatto va bene così molto bene è stato facilissimo allora proviamo a complicarlo un pochino adesso tocca a Lara chiudere gli occhi ma prima di iniziare dovete prendere un biglietto bene io questa vediamo devi girare per cinque volte vedrai il pinnipon solo per cinque secondi mamma mia povera me solo cinque secondi ma io ho la memoria di un pesce mi verrà la nausea sono sicura dai ragazze cominciamo ecco fatto dai aspetta comincia a girare uno due tre quattro e cinque dai 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 cominciamo con le teste va bene dai vediamo dai allora a destra adesso un po' in su e ora un po' a sinistra ecco sì 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 quella benissimo ci sei perfetto e sì bene aspetta che prima la maglietta no dai a destra sicura sì ecco 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 ci sei ci sei no 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 non quella no vediamo sì questa 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 sì eccola qua bene bene adesso i capelli bene devo concentrarmi sono a destra e devi prendere come dei codini lì 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 dai stai toccando no no non quelli più in basso più in basso questi sì 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 però adesso manca sì questi il cappello il cappello lo trovi in mezzo ai capelli vai di là dai a destra di più di più in su ecco molto bene questo e ora i piedi che sono lì bene ora e va bene credo siano sicura sì credo di sì mi sento un po' in su dai un po' in su più in alto in alto a destra a destra a destra di più di più di più di più no quelli no quelli sì 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 bene dai adesso hai già tutto allora questi sono i piedi no sì ecco ci sei perfetto devi prendere la maglietta questa vediamo fa vedere e ora devi prendere i capelli eh la testa la testa no in alto in alto in alto questa sopra sopra no prova a girarla ecco perfetto perfetto molto bene 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 ti è caduta la pozione mettila mamma mia ma mettigliela in mano no dove ha il buchetto perfetto e adesso i capelli dai no non quelli quelli che erano qui ecco questi sì mettigliela in mano così sì così molto bene e adesso il cappello viene il cappello dai il cappello no il cappello era qui vai vai indietro indietro eccoci ce l'hai perfetto ed è già montato yuhuu fa vedere che carina le ho messo tutto al rovescio bene ragazze e come avete visto la streghetta era katia però i piedi non sono giusti la diamo per buona sì dai 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 sì per favore sì va bene credo di sì prova superata complimenti ehi Lara questa sfida era molto difficile dillo a me che ancora ho la nausea bene però ancora una volta ci siamo riuscite siamo due mega fan se anche tu vuoi essere un mega fan non perderti le nostre sfide di mixis max e tutte le pazzie che faremo con i pinipon metti un like e iscriviti al canale del mondo pinipon e ricorda uno due tre mixis max e non dimenticare di fare clic sul campanello per vedere i nuovi video di Lara e Mara muah